A me personalmente è servito tantissimo perché insieme allo staff, insieme anche a tutta la squadra ho messo un po' di benzina nelle gambe, abbiamo lavorato un po' più nello specifico e mi sono messo quasi al pari degli altri ragazzi. Infatti mi sento meglio, sto meglio fisicamente. Intanto lo ringrazio, significa che ha molta stima di me. E poi ognuno di noi penso che ambisce a categorie superiori a fare qualcosa di importante. Quindi sta a me, a noi come gruppo lavorare ogni giorno per ambire a qualcosa di più, qualcosa di importante. Magari nell'atteggiamento siamo in un momento in cui siamo obbligati a dare il cuore oltre l'ostacolo. Però il gruppo è sempre stato lo stesso, siamo sempre stati uniti, ci siamo sempre aiutati. Forse la sosta ci ha aiutato a compattarci ancora di più. Quindi secondo me ci ha fatto bene. È una vittoria, ci sono altre 17 partite da giocare, quindi non bisogna sognare e non bisogna abbattersi quando si perde. Bisogna essere equilibrati e bisogna continuare su questa strada, lavorare, migliorare dove si deve migliorare. Tanto lo sappiamo, con lo staff ne parliamo ogni giorno, quindi sono queste le cose fondamentali secondo me. E con l'ingresso del Pesaro di Acquadro che si inseriva ci creava un po' di problemi. Con l'ingresso di Marco siamo riusciti a controbattere tutti i loro attacchi offensivi. Però penso che anche prima stavamo conducendo bene nella gara. Tanto o si gioca a 4 o si gioca a 5 o si gioca a 6. L'importante è che quando vai in campo i contrasti vai duro e non perdi un contrasto e voglia di vincere. Nell'atteggiamento poi a 3, a 4, a 5 cambia poco. L'importante è come entra in campo.